Vallo storico Gianberto Pettoello, il premio Cultura Città di Bassano 2016, da sempre attivo in ambito culturale e per la tutela dei monumenti e dell'ambiente, è stato anche amministratore comunale e provinciale, docente di storia e di filosofia. La cerimonia di consegna è il 19 gennaio alla Sala da Ponte. Un impegno davvero più che decennale, lungo tutta una vita, per approfondire la cultura di Bassano in tre dimensioni specifiche, che è quella storica, quella artistica, ma anche quella ambientale. Il professor Pettoello è stato davvero esperto nell'indagare questa tridimensionalità della città e poi poter divulgare con non poche pubblicazioni le scoperte fatte a tutta la cittadinanza. Il premio Città di Bassano è stato assegnato a Maria Pia Mainardi. Da sempre attiva nel volontariato, dopo l'esperienza come consigliere comunale e regionale, ha organizzato Spazio Donna, centro riconosciuto dalla Regione Veneto che si batte contro la violenza sulle donne. Che si tratti di Commissione Pari Opportunità, che si tratti di Spazio Donna o di un protocollo d'intesa contro la violenza di genere, il suo impegno per fare le donne protagoniste della loro storia, della storia cittadina e della storia del paese, è stato davvero sempre in interrotto con risultati che sono davanti agli occhi di tutti. I premi Sambassiano a Ruggero Remonato, recentemente scomparso, scrittore e giornalista, attento ricercatore di aneddoti anche sconosciuti della storia cittadina, all'associazione Judo Ben Sen, attiva dal 1965, che proprio l'anno scorso ha festeggiato il cinquantenario dalla fondazione, e al circolo giuridico bassanese, associazione costituitasi nel 2007 su iniziativa dell'Ordine degli Avvocati, un riconoscimento anche e soprattutto a sostegno del rinnovato impegno per la fondazione del Tribunale della Pedemontana.